Alle 8.30 di stamane un grave incidente a Fiumefreddo di Sicilia ha visto protagonisti due 21 anni di Fiumefreddo a bordo rispettivamente di un'automobile e di uno scooter. Ad avere la peggio il ragazzo che guidava in mezzo due ruote. L'impatto avvenuto in via Diana all'altezza del numero 53 è stato conseguenza della manovra compiuta dalla donna a bordo dell'autoveicolo che trovandosi in sosta sul lato sinistro della carreggiata in direzione Messina al fine di mettersi nel flusso stradale ha raggiunto la mezzeria della carreggiata. Intanto dal lato opposto giungeva il giovane a velocità sostenuta che non ha avuto tempo di frenare. Lo scontro è stato violento. Lo scooter ha impattato con lo spigolo destro della parte anteriore della vettura facendo sbalzare il 21enne sull'asfalto. Ad intervenire sul posto, oltre alla polizia locale che ha compiuto i rilievi, avvisato il PM procedendo al sequestro dei mezzi, anche due ambulanze del 118 che hanno chiesto l'intervento dell'elisoccorso del Cannizzaro. Dopo qualche difficoltà nell'atterraggio a causa del mercato settimanale del martedì, l'elisoccorso è atterrato nello spiazzale antistante la parte nuova del cimitero. L'impatto ha provocato la rottura di una mano e una profonda ferita al volto del giovane, per cui risulta interessata anche la mandibola. Dopo essere stato intubato, il ragazzo è stato trasferito all'ospedale Cannizzaro di Catania. La prognosi rimane per ora riservata.